Beh, io credo che noi non siamo come il PD e non scegliamo con chi abbiamo, che riteniamo un pericolo per questo paese. Una cosa che sicuramente vi chiedono tutti, ma purtroppo ve lo devo chiedere, qual è la vostra valutazione? Ma Luis sta all'estero, credo. Torniamo, ci parliamo, che vediamo un po', io me lo prendo, mi faccio una birra e gli ricordo che cos'è il PD. Io ce l'ho tutto segnato, che cos'è il PD e vedrete che se glielo ricordiamo, lui si ricorderà che cos'è il Partito Democratico e c'è il partito dell'incoerenza. È sempre lo stesso tra l'altro, non è cambiato di una virgola.